SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO Tutte espressioni degli uomini che prima non erano mai state rappresentate. Prima non era pensabile una cosa del genere. Giotto è un artista del Medioevo italiano, ma la sua rivoluzione è proprio quella di anticipare temi che sono tipici del Rinascimento. Giotto anticipa il Rinascimento. Giotto anticipa il Rinascimento. Giotto anticipa il Rinascimento. Giotto è una spazialità che sarebbe arrivata un secolo dopo. Giotto già apre la pittura a una grande spazialità. Giotto è anche colui che cerca di dare un'idea dello spazio concreto di queste figure che vivono in un mondo reale. Giotto è un'idea di tutti. Giotto è un'idea di tutto. Questi cambiamenti sono stati irreversibili, dimenticate, non potevano essere più rinnegate. Dopo aver cercato per tutto il Medioevo di trascendere l'uomo, di andare oltre l'uomo, poi tornata all'uomo.